A seconda dei risultati verrete inseriti nell'apposito gruppo di applicazione che richiede quelle particolari caratteristiche. I gruppi infatti sono divisi in quattro tipologie generali che coprono praticamente tutte le possibilità o quasi. Ogni gruppo composto da 16 persone circa si organizzerà poi autonomamente per trovare ed eleggere al suo interno un group leader e due team leader che guideranno le tre squadre distinte per ogni gruppo di applicazione ad esempio alfa 1, alfa 2 e alfa 3 ognuna con specifiche caratteristiche che imparerete ad individuare e a distinguere. La valutazione complessiva viene ottenuta attraverso i tempi, i numeri e i voti da 1 a 5 con cui gli esaminatori stirano le schede individuali e questi rappresentano le valutazioni oggettive ma non sono le uniche in quanto verrete valutati anche sotto l'aspetto soggettivo. Quindi rimane importante come reagite durante queste prove e quindi rappresenta una valutazione complessiva del vostro carattere. E adesso vi svelo alcuni segreti che vi saranno di enorme aiuto. Pare che la valutazione sulla prima impressione avvenga in meno di un secondo e quindi cercate di prepararvi a dimostrare cosa veramente volete ottenere e cosa siete, chi siete. Non fingete e siate spontanei il più possibile. L'altro elemento che è assolutamente da tenere in considerazione ed è fondamentale è la puntualità. La puntualità non è una cosa che richiede nessuna skill particolare o talento. Il candidato si deve premurare di arrivare sempre puntuale a tutti gli appuntamenti e attività che vengono assegnate. Si deve sempre tendere a prevedere il peggio. Dovete dimostrare di essere capaci a organizzarvi e prevedere eventuali ritardi o impedimenti per fare in modo di partire con il giusto anticipo per evitare appunto tali impedimenti. Ad esempio se si arriva in ritardo per il traffico significa che non si è pianificato prevedendo il traffico, quindi la colpa è vostra e non del traffico. Non sapersi organizzare per arrivare puntuali significa non avere capacità di programmazione, organizzazione e previsione che si traducano al lato pratico del gioco in sconfitta o inefficienza. Altra caratteristica che verrà valutata è la vostra attitudine. Si valuta infatti la capacità che avete ad affrontare le difficoltà. La selezione del VAG è studiata in modo da cercare di mettervi in difficoltà e di ottenere più elementi possibili di valutazione cercando di destabilizzarvi. Osserviamo come affrontate i problemi, se questi vengono da voi visti come una noia e una cosa semplicemente fastidiosa o se sono un elemento di stimolo per migliorarvi, un incentivo per superare i vostri limiti. Altro elemento di valutazione è la capacità attentiva. Siete capaci di mantenere l'attenzione e in che maniera? Siete più o meno attenti ai dettagli? I dettagli possono essere elementi veramente determinati in una pianificazione di combattimento e soprattutto devono essere presi in considerazione e non tralasciati mai. Responsabilità. Siete in grado di prendervi le vostre responsabilità? Tutti sbagliano, ma bisogna essere in grado di prendersi le proprie responsabilità in maniera sincera con se stessi e con gli altri. Non accettare i propri errori significa non riuscire ad affrontarli, quindi non riuscire a migliorarsi rimanendo fermi. Chi non sa prendersi le proprie responsabilità non è ben visto dallo staff, ve lo dico già. Onestà. Siete onesti o ingannate voi stessi e gli altri? Una persona che mente e non è in grado di affrontare la verità è un pericolo per se stesso e per gli altri e deve assolutamente essere identificato. Solitamente tali figure tendono ad essere emarginate naturalmente dai gruppi e rischiano di compromettere l'umore e l'andamento di una squadra. Anche in questo caso vi consiglio di fare bene tabula rasa e di imparare ad essere onesti il prima possibile. La disonestà è un'altra cosa che non tolleriamo, ma sono sicuro che non capiterà, perché siete tutti veramente sempre stra in gamba. Ottimisti o pessimisti? Siete positivi o negativi? Deprimete o galvanizzate i vostri compagni? Anche questo elemento è indispensabile. Nei momenti di difficoltà vedete il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Denigrate gli errori dei vostri compagni additandoli e separandovi da loro o incorporate i valori della squadra e vi accollate magari l'errore degli altri tirando sul morale a tutti magari con una battuta. Una persona positiva farà sicuramente meglio di una che invece tende a deprimersi e questo si riflette anche ovviamente sulla squadra. Siete persone che risolvono i problemi o ne parlano soltanto in continuazione senza fare niente? La praticità e non la teorie in alcuni casi è vincente soprattutto in un'attività di combattimento. Bisogna imparare ad affrontare e risolvere i problemi in modo pratico e realistico. Cooperazione e teamwork. Altro elemento indispensabile per ottenere punti, perché poi si raccolgono anche punti, è per migliorare le performance e la cooperazione generale con il camp e con gli altri. Che si tratti di aiutare a sparecchiare i piatti o raccogliere l'immondizia che non avete fatto voi nel bosco, aiutare gli istruttori, portare il peso di un compagno di squadra stanco ad esempio cercare di vedere in anticipo dove serve aiuto. Qualsiasi atteggiamento di cooperazione è indispensabile e fondamentale per la riuscita di qualsiasi cosa, soprattutto di una squadra di combattimento. E infine affronterete anche la leadership. Potrete ottenere delle leadership e diventare group leader oppure team leader. Per chi si sente in grado, per chi lo sente come una motivazione o una vocazione o per elezione di gruppo, è indispensabile mostrare tutte le precedenti caratteristiche e saperle amministrare equilibratamente, assieme a una spiccata capacità decisionale che vi faccia prendere le decisioni in poco tempo e senza remore. E ricordate sempre, un buon leader è capace di seguire tutti i precedenti punti fino ad ora elencati e di cedere il posto immediatamente a chi dimostri di saperlo fare meglio di lui. Quindi, mi raccomando, siate umili. Nel Junior Softair Camp affronteremo insieme momenti coinvolgenti. L'intera vacanza è stata studiata per vivere un'esperienza unica, intensa sia nel divertimento che nell'impegno. Non c'è strada facile per la soddisfazione, che alla fine si ottiene sempre solo attraverso il sudore e il duro lavoro, in qualsiasi campo. Ma alla fine di tutto questo vi porterete a casa qualcosa di unico, il cui merito è soltanto vostro ed è veramente indimenticabile. Vi aspetto tutti al Junior Softair Camp. Per tutte le info, iscrizioni e contatti li trovate nella descrizione. Ci vediamo alla prossima. Da Pio3 per oggi è tutto. Ciao impallinati! Ciao impallinati!